Il suo nome per esteso è 2001FO32 ed è un asteroide che passerà vicino al nostro pianeta il 21 marzo 2021, si tratta di domenica. Pensate che passerà molto vicino alla Terra ed è l'asteroide più grande dell'anno in questione, del 2021, ma per fortuna ha una distanza di grande sicurezza, quindi non c'è pericolo che possa eventualmente andare a colpire il nostro amato pianeta. Diciamo così che però, da come si legge sul web, potrebbe addirittura essere guardato. Non ovviamente a occhio nudo, bisognerà munirsi infatti di un telescopio ottico o elettronico, sarebbe meglio elettronico, per poterlo andare a visualizzare. Questo dunque sarebbe quanto, cari utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi al mio canale Narratore Italiano, fatemi sapere cosa ne pensate e datemi le vostre opinioni. Un saluto nel caro D'Aleandro e al prossimo video una buona giornata a voi.